La nuova Leon Experience è un'auto che regala emozionanti sensazioni di guida su ogni tipo di percorsi. Un'auto unica che va ad arricchire la famiglia Leon e aggiunge un'ulteriore dimensione alla nostra gamma. Costruita sulla stessa piattaforma della Leon ST è dotata di sospensioni rialzate di 27 mm rispetto alla versione Station Wagon, in modo da garantire una visuale migliore, più sicurezza e protezione. I paraurti speciali e le modanature protettive garantiscono tutta la solidità e la robustezza necessarie per viaggiare sereni. La nuova Leon Experience ha di serie la trazione integrale 4Drive ed è dotata dei più avanzati sistemi di sicurezza del gruppo Volkswagen. Un'auto dinamica dedicata soprattutto a chi è alla ricerca di una nuova esperienza di guida. Nuova Leon Experience non è solo una Station Wagon ed è pronta a farti scoprire nuovi orizzonti. Un'auto che è la sintesi perfetta di dinamismo, versatilità ed eleganza.